Grazie Non so ancora dove sia esattamente Non so ancora dove sia esattamente Non so ancora dove sia esattamente Mi è stato promesso Anna vediamo se sarà vero Il brevetto per i baby Il baby non avrà il brevetto No, grazie 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 a tutti Grazie a tutti Andiamo Andate Siamo pronti Ci penso io Ok grazie Stiamo usando questo qua Ciao Scusate Siamo a voi dopo 10 primi Io vi manterrei così Albert Sia Raffa ricevuto QNH 1015 Non vi abbiamo ancora in vista Comunque consideriamo 1500 gradi Sulla città di Pado Anche un pelino qui giù forse No no Stai a distanza di sicurezza dal matitone Ecco adesso Francesco se vuoi scendere un pochino E andiamo Andiamo a 12 km orari E fino alle 0.4 L'ho rimandato Buonasera L'ho rimandato L'intenzione Vento a 90 gradi Se no di una volta al suono Liberiamo Pizzate 182 Tango E l'intro a Pado A Pado A Pado A Lido Siamo lasciando il più di Tango E fa una Pappadessa Informazioni per la Terraria Siamo fermi Siamo tornando indietro Scendi 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 Un procedimento Con un po' tra i 3 quinti e 4 quinti Ormai Siamo sempre a Ossola Loco 2 Un'attività C'è quel senso del Tribunale Allora è sganciato le colori E la fiera niente E anche la fiera Il riguorso ha ricevuto QNH 1015 Riparti entrando il sottovento Finso Un'attività 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 Un'attività